visto che non riesce a farla così fa al contrario ah puoi dir giuro loro figurati va a vedere al contrario se me la ricordo però tiro su i pantaloni che li perdo e questi qui no ma questi ce li ho da una vita non lo so facci pirlone minchia questa è stretta però non 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 me le ricordo ancora qua va, me le ricordo ancora, è un po' più facile, devi solo calcolarla un pelino e basta ma è più facile, bravo c'hai dei traiettori un po' più larghi, la tua sai cosa c'ha che muore come fa questa ma appena gli dai cazzo parte via, invece questa se va sotto dopo cazzo prima che prende, oh c'ha il vuoto, bravo c'ha il vuoto, invece la tua non lo fa più, non lo fa più quel verso lì cazzo, perché si sente subito quando anche sei pieno che gli dai fa come questa che si sente invece e parte via come due tempi cazzo, è più pronta cazzo ma perché trovo, io non capisco perché trovo difficoltà là figaro, porca trota Frank, ma cazzo ma non che ma vedi non usi più esi, figaro non si sposta devi muoverti, tu sei sempre centrale un casino, centrale la moto non riesce ad andare su dove è ma non si sa come, devi allungarti, devi muoverti un casino sulla moto, cioè se tu ti muovi non ha capisci, devi allungarti, cioè spostati un casino sulla moto, se no non riesci a, lei non riesce a fare quello che vuoi tu da sola, quando sei qua parti già da qua, vuoi fare anche il sasso, devi muoverti cioè devi spostarti un casino, tu invece sei molto in mezzo, stando tanto in mezzo, poi lei sente tutti i colpi che prendi li sente tutti la moto, non ammortizza, invece se ti la carichi e la scarichi in automatico ricorda, quando apri indietro, quando chiudi in avanti, pensa sempre a quello e gira un casino le spalle, cosa che tu non giri, tu sei su dritto, cazzo se giri di là gira le spalle prova cioè se tu prendi in mano questa sei morto continua a fare gli otto e anche perché tu sei su tutto centrale ma non ti muovi né col corpo e né giri non ci metti peso a un sasso no perché fai fatica come lì non ti va su perché sei in mezzo quando tu asi indietro guarda anche lui che lui usa tanto i pesi adesso gli prepariamo una bella foto da me come i colpi che mette chi davanti hai perso una brugola occhio perché quella lì è già fuori guarda è già fuori un pezzo è già fuori di mezzo centimetro eh e infatti sta pisciando da qua guarda hai fatto lavorare tutto quello di lì? ha perso una brugola ha perso una brugola e già fuori di mezzo centimetro e sta pisciando di là chiaramente che dopo lavorare tutto si tirane via una sotto e la metti sopra allunghi devi che tirarla su però storta si aspetta non so se è questo si eh cazzo sono morti molly molly vedi che è già tornata su ancora adesso eh però adesso è fino a tirarla su eh guardate anche le altre no queste sono tirate quasi no queste sono tirate è che qua è andato il paraoglio ah vedi che ti è saltato fuori questo tutte e due figaro si non è questo che tiene perché però già è saltato fuori da smettergli su un coso vedi subito però secondo me piscia fuori è questo alza questo graffigno qua quel graffio lì che piscia fuori capito quando si lima il paraoglio dopo ci fa il buchino e viene fuori sì ma magari non gli fa niente giugale basta e vedi subito io ai tempi avevo il beta che c'evo sullo straccetto da una parte perché ogni volta perdeva e poi quale perde questo che va giù sul disco come sempre no esatto sempre non si mai quello di qua tanto quello davanti non serve eh certo eh in giù è sgarlato a partire le mie che filmi un cazzo in quel